Il senso di questa chiacchierata sui Promessi Sposi e su Alessandro Manzoni è di raccontarli come se fosse una storia che riguarda noi italiani di oggi. I Promessi Sposi sono stati scritti e abbozzati nei primi decenni e poi pubblicati in versione definitiva negli anni 70 dell'Ottocento e parlano della Milano di due secoli prima, cioè della Milano del Seicento, sotto la peste e può sembrare una storia confinata nel passato. In realtà la generalità del Manzoni è tale che oltre alle scelte linguistiche ancora affascinanti, una prosa limpida, secca, descrittiva, lirica e nello stesso tempo storica, descrive l'Italia e gli italiani secondo moduli che ancora oggi, 2021, risultano efficaci e presenti ai nostri occhi, in qualche episodio di bene e in alcuni numerosi episodi di male. Dunque un classico, perché la caratteristica dei classici è di superare il momento della loro creazione per diventare riferimenti eterni.